Buongiorno, adesso vi presento il capriccio gli armonici. Gli armonici li ho usati anche in altri capricci, in questo caso però sono usati in maniera particolare gli armonici semplici, cioè primo dito giù e il quarto che sfiora a una quarta in stanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sol, Siorel, Do, La, Si, Do, Die, Sis, E, Siorel, Fa, Die, Re. Attenzione all'arco deve stare più centrale possibile e dopo che avete studiato in questa maniera lo applicate direttamente al capriccio. Anche questo capriccio si studia nei corsi superiori del conservatorio. Se lo volete acquistare sul sito GD Roma oppure su Amazon e negli altri canali di istituzione. Vi ringrazio e buono studio.